La fine ha fatto Gary Cooper, il tipo forte e silenzioso, l'esempio di uomo stoico che non si lamenta, che non frigna, che fa quello che va fatto. Questo è quello che Tony Soprano chiede alla dottoressa Melfi durante la sua prima seduta di psichiatria, ma più che chiederlo a lei, lo sta chiedendo a se stesso, in quanto si vede come un uomo debole, come quelli formati da questa società moderna, che devono correre a parlare dei loro problemi, piegnocolando e non agendo. Questo è quello che pensa Tony, ovviamente, e non solo lui, mettiamoci anche tutti gli altri maschi Sigma, Ligma, Alpha presenti al giorno d'oggi sui social, ma cerchiamo di restare sul soggetto. Tony tutto questo resenta l'umiliazione per un uomo come lui, per una persona cresciuta in un determinato ambiente. Queste viste dalla psichiatra non sono solo motivo di vergogna, ma anche motivo di paura, tanto da temere per la sua vita e quella della dottoressa Melfi. Su ambiente lavorativo tutto questo non esiste, non deve esistere, è una disgrazia anche solo pensarlo. Un uomo è un uomo dopo tutto, se sei depresso vuol dire che non hai le rotelle a posto e che devi essere rinchiuso in un manicomio, se hai gli attacchi di panico sei un epilettico. Un uomo d'onore poi deve essere infallibile, non deve avere la benché minima debolezza, deve essere sempre pronto ad agire da capobranco, o almeno mantenere la facciata di fronte agli altri. In quanto si tratta di gerarchie, o meglio di un modello gerarchico molto antiquato che trova le sue radici in una società piena di stigmi, ovvero quella generalmente del sud Italia rurale di qualche secolo fa. Tutto questo si è poi ovviamente tramandato di generazione in generazione, fino ad arrivare a Johnny Boy Soprano, il padre di Tony, che ha a sua volta tramandato tutti o quasi gli insegnamenti al piccolo Anthony, cresciuto con non pochi traumi da affrontare, e che andando avanti con l'età, a furia di ignorarli, diventano un problema vero e proprio. Tony ha dalla sua un carattere esuberante e molto giocherellone, almeno nelle prime stagioni, che fanno ricordare il Tony del passato, il ragazzo, con la sua onnipresente voglia di drammatizzare le situazioni più gravi, il suo pensare più lucidamente e il suo essere sempre il clown della classe, o meglio, il clown turista. Purtroppo questo suo mascherare, o quantomeno cercare di mascherare questi aspetti, lo porterà su una strada senza ritorno, soprattutto perché non affrontere mai direttamente i suoi problemi, ma troverà dei modi per scaricare l'attenzione in altri modi, appunto, scusate il gioco di parole. In primis alcol, donne e cibo, che lo porteranno poi verso una lenta progressione, anzi regressione, nel corso delle stagioni, alimentando il suo lato distruttivo e intrappolandolo in una spirale di tossicità. Tossicità sia comportamentale che ambientale, dovuta al lavoro, che non lascia scampo, in qualsiasi modo si possa interpretare il finale della serie. Penso che Tony, in una maniera o nell'altra, nel finale, va a finire male. Eppure, Tony si rifiuta di cercare aiuto. Per lui, andare alla psichiatra senza effettivamente mettere in ordine il suo modo di affrontare la vita e il suo lavoro, sembra essere più che sufficiente. Infatti, appena vede il minimo miglioramento, dice no, non ho più bisogno di andare alla dottoressa. Si è alimentato dal fatto che lui odia sentirsi una vittima. Infatti, durante una delle tante sedute della dottoressa, Tony dice In quel momento vengono affrontati i traumi del passato di Tony, dovuti ad una madre poco presente e quasi per nulla amorevole. Ad un padre che di mestiere pesta la gente e taglia le dita di chi deve i soldi, senza contare le sue numerose donne e in relazione extraconiugale. Ma questo per lui, per Tony, faceva parte della normalità e non vuole sentirsi una vittima, non vuole sentirsi dire non è colpa tua, se sei così. Perché per lui questo è l'ennesimo atteggiamento da perdente, non è da Gary Cooper. Ma perché Tony, tra tutti gli esempi possibili, va a prendere proprio Gary Cooper? Questo credo sia presto detto, in quanto Tony è molto appassionato di cinema, di guerra e altri documentari storici. È affascinato da questi personaggi, soprattutto dall'impero romano e dai suoi imperatori. Quale genere cinematografico migliore, per racchiudere tutto questo, o quasi tutto, in una pellicola, se non il western? Tempi duri e uomini duri che, almeno sullo schermo, risolvevano le faccende a sondi, revolver e cazzotti. Uomini che non avevano paura di nulla e che non lasciavano trappellare la benché minima emozione dai loro volti. Ecco perché Gary Cooper. Ma Tony è Gary Cooper? O vorrebbe solo esserlo? Secondo il mio modesto parere, Tony è forse quanto più lontano ci possa essere da Gary Cooper. Il suo costante lamentarsi di ogni situazione, sminuire i problemi degli altri, assecondare ogni suo minimo istinto e dunque essere impulsivo e molte volte inaffinabile, lo rendono una persona tutt'altro che vicina al suo tipo di uomo ideale. Tante volte Tony ha fatto scelte sbagliate per la sua famiglia o a Glorified Crew, mettendo al primo posto gente imparentata con lui e mostrando favorittismi non giustificati, soprattutto nel caso di suo cugino Tony Blundetto, una scelta che in quel caso rischia di far scoppiare una guerra tra New Jersey e New York. Tony vuole ovviamente proteggere il suo cugino, perché in un certo senso si sente in debito con lui, ma facendo ciò mette a rischio più volte la vita dei suoi sottoposti. O prendiamo il caso di Christopher e del suo problema di droga, nonostante nel breve termine si riveli essere una scelta giusta, dettata più dall'affetto che dalla pura logica criminale, nel lungo termine questa farà molti danni, anche se non dipenderà interamente da Christopher, ma da Tony stesso e dall'ambiente tossico in cui Chris si trova. Parlato anche in questo video è dedicato proprio a molti Santi Junior. La costante tossicità di un ambiente che prende per perdente chiunque non si comporti da uomo, secondo i loro standard, viene allontanato e ostracizzato. E Tony ovviamente si ritrova ad allontanare sempre di più Christopher, soprattutto perché odia vedere le persone fare progressi, dove lui invece ha fallito. E possiamo vederlo anche con sua sorella Janice, dopo che lei sembra aver imparato a gestire la sua rabbia. Insomma, Tony col passare delle stagioni diventa una persona sempre più riprovevole, tossica e distaccata dalla realtà. Un'anti Gary Cooper a questo punto. Il suo continuo lamentarsi ad esempio lo porta a non capire quando un Gary Cooper ce l'ha effettivamente di fronte. Pensiamo a Silvio Dante, consigliere fidatissimo di Tony, fa quello che deve fare, segue gli ordini, non si lamenta e pensa solo al bene del business, limitando il più possibile le influenze esterne ed emotive per quanto concerne le decisioni da prendere. Eppure, essendo un ottimo numero due, non si schierà mai le sue decisioni, ma cerca di ragionare e farlo ragionare, facendo da ponte tra lui e il resto della famiglia. Cercando di mantenere l'ordine, facendo in modo che le decisioni vengano rispettate, ma allo stesso tempo cerca di far arrivare il malcontento generale al grande capo quando necessario, sempre in maniera pacata. Pensiamo a quando Tony fa sparire Ralfi. I suoi capi famiglia sono ovviamente preoccupati perché sotto sotto sanno che è stato Tony, ma ovviamente non possono dirlo direttamente o addirittura farlo capire. A cena con Pazzi ed Albert, Silvio dà loro la possibilità di parlare apertamente, off the record, come dice lui, fungendo così da balbola di sfogo per fare in modo di ascoltare cosa hanno da dire quei due. Un episodio particolare è quando i ruoli si invertono ed è Tony a riportare Silvio sulla strada della ragione. Parlo dell'episodio Christopher, dove la figura di Christopher Colombo è messa in discussione, ai nativi americani vogliono impedire che si festeggi una figura così controversa che viene accusata di genocidio. Silvio si fa prendere fin troppo la mano, impiegando tempo e risorse preziose per guidare il movimento italo-americano. E Tony si incavola parecchio facendolo ragionare sul fatto che se è l'uomo che è, di certo non lo deve alle sue origini calabrese, ma come si comporta, al suo senso degli affari, alla sua intelligenza. E Silvio non è certo l'unico esempio di Gary Cooperismo presente nella Glorified Crew di Tony. Prendiamo Pazzi Parisi, citato poco fa. Pazzi è il fratello gemello di Fili Parisi, ucciso all'inizio della seconda stagione da Gigi Gestone. In cuor suo sa benissimo chi ha ucciso suo fratello e anche chi è il mandante. E passa un brutto periodo della sua vita bevendo e pensando di fare la più grande delle pazzie, ovvero vendicare suo fratello uccidendo i responsabili. Ma dopo un brutto episodio, e anche fortunato se vogliamo, a casa di Tony, Pazzi ingoi il rospo accettando il fatto che suo fratello è morto per via del lavoro che svolgeva e per la sua abitudine a parlare troppo, e che dunque non deve prenderla sul personale. C'è anche un momento magnifico in cui, parlando con Tony, Pazzi viene costretto a dire di essersi lasciato la cosa alle spalle, accettando quanto è successo. E tornando dunque agli affari. Ma non solo in questo caso, anche quando viene scavalcato nelle gerarchie da Christopher, Pazzi ingoi il rospo e fa quanto detto. In quel caso ovviamente interverrà Silvio Dante, sempre la persona più lucida. Questa mentalità di non lamentarsi e continuare a lavorare per i fatti suoi lo porterà poi in una situazione fortunata quando suo figlio maggiore inizierà a frequentarsi con Medo, la figlia di Tony. O posso fare un altro esempio di Gary Cooper, utilizzando lo stesso Gigi Gestone. Insomma, Tony durante il suo cammino ne incontra diversi di Gary Cooper, solo che sembra non apprezzarli quanto dovrebbe, e sembra farsi guidare dalla sua emotività il più delle volte. Il caso di Christopher che sorpassa Pazzi nelle gerarchie ne è solo l'ennesimo esempio. Ho fatto un altro esempio prima all'inizio con Tony Blundetto, ce ne sono diversi altri. Purtroppo per la sua famiglia non è mai stato all'altezza di molte situazioni, soprattutto con il passare del tempo, con il passare delle stagioni. E questo succede anche in maniera indiretta, quando le sue decisioni erano magari lucide, ma con il favoritismo nei confronti di membri familiari a lui, poi questo lo ha tradito o deluso. Comunque è incredibile come ci sia tanta stratificazione, così tanti livelli di lettura in una serie tv che ha ormai tanti anni sul grappone, eppure non sembra essere invecchiato affatto. Non è un caso se rimane ancora la mia serie tv preferita, e spero di poter portare altri video come questo in futuro. Poi fatemi sapere cosa ne pensate di questa faccenda, se secondo voi Tony è un buon boss o un cattivo boss, Harry Cooper. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.